Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul canale, io sono Annalisa e oggi sono qui per parlarvi di Squid Game la serie che ormai ha guardato praticamente tutto il mondo e sulla quale io ho alcune riserve e proprio per questo un paio di settimane fa vi avevo chiesto su Instagram se volevate che me ne parlassi in maniera approfondita per spiegarvi le mie ragioni e molti di voi mi hanno risposto in maniera positiva quindi eccomi qui. Oggi andremo un po' a parlare di quelli che sono secondo me i lati positivi e i lati negativi di questa serie e del perché non mi ha convinto al 100%. Prima di iniziare però come sempre vi vorrei ricordare che se vi piacciono i miei contenuti e volete sostenere il mio lavoro qui su Youtube e non solo potete farlo iscrivendovi al canale e attivando la campanella così da ricevere una notifica ogni volta pubblico nuovi video, seguendomi sui diversi social trovate tutti i link nella descrizione acquistando attraverso il mio link di affilazione Amazon con il quale io ricevo una piccola percentuale che non va a incidere sui vostri acquisti oppure offrendomi un caffè simbolico su Ko-fi, trovate sempre il link in descrizione Bene, direi che possiamo iniziare Ho qui i miei appunti, quindi se mi vedete ogni tanto guardare in basso è proprio per quello e ho fatto una sorta di schema generale dividendo in due categorie tutto ciò che mi è piaciuto e tutto ciò che non mi ha convinto Partiamo dalla trama della storia nonostante penso che ormai la conoscano tutti ma magari c'è qualcuno di voi che non l'ha ancora guardato per varie ragioni e quindi mi sembra il caso di introdurvi comunque la trama Schippate se appunto la conoscete La storia è quella di un gruppo di individui che afflitti dai debiti decidono di partecipare ad un gioco Un gioco che appunto ha come base dei giochi che facevano da bambini Chi partecipa al gioco è al di sopra più o meno dei 30 anni e quindi sono questi dei giochi per bambini che andavano molto forte tra gli anni 80 e 90 in Corea del Sud Abbiamo tra questi giochi ad esempio un 2-3 stella nella versione appunto coreana O appunto quello che è il gioco che dà il nome all'intera serie, lo Squid Game Che è un gioco che ci viene spiegato nella prima scena della serie, del primo episodio E che appunto era un gioco molto molto famoso proprio negli anni 80 e 90 Che poi sono anche gli anni tra virgolette nei quali ha vissuto la sua infanzia l'autore della serie All'interno di questo gioco però i partecipanti non sanno che perdendo non si perde soltanto il gioco ma anche la propria vita Ogni vita persa sono 100.000 won che vengono accumulate all'interno di un grande salvadanaio E alla fine chi vince il gioco, chi vince tutti i giochi avrà il premio Cioè questa somma di denaro che servirà poi a ripagare i propri debiti e a rifarsi una vita Abbiamo diversi personaggi con background differenti E però appunto il protagonista principale della storia è quest'uomo di circa 45 anni che ha perso il lavoro E' indebitato ed è un amante del gioco d'azzardo Lui scommette sulle corse di cavalli e appunto decide di partecipare a questo gioco Perché la sua vita sta cadendo in pezzi A causa dei debiti ha dovuto firmare un contratto per la cessione dei suoi organi E la sua figlia e la sua ex moglie stanno per trasferirsi dall'altra parte del mondo Quindi lui cerca appunto di raccimolare soldi non solo per se stesso ma anche per la sua stessa famiglia E per rifarsi una vita come si deve Allora non vi dico altro perché appunto essendo solo 9 episodi da circa un'oretta ciascuno Aggiungere un altro elemento a quello che vi ho già detto andrebbe a spoilerare poi tutto il resto Allora partiamo dalle cose che mi sono piaciute Prima di tutto la critica sociale che viene fatta all'interno della serie Che assume la connotazione di una sorta di metafora Che è la metafora del gioco e la metafora dell'intero sistema Che viene architettato per organizzare tutti questi giochi E poi insomma il gioco più grande che è quello della vita All'interno della storia infatti quello che è il gioco principale È quello tra vita e morte Ed è molto molto emblematico il fatto che i giocatori vengono messi alla prova su giochi molto molto semplici Dando per scontato che la vita è un gioco che è molto semplice perdere Ma nel quale è anche molto semplice vincere Basta una sola incognita, un solo elemento di fortuna per avere successo O per cadere nel baratro e perdere la propria vita O perdere tutto quello che rappresenta per noi la nostra vita E allora questo gioco all'interno della narrazione mi è piaciuto moltissimo E devo dire che è anche una delle cose che secondo me hanno fatto il successo della storia in sé per sé L'altra cosa che mi è piaciuta moltissimo all'interno della costruzione della trama e dei diversi giochi che vengono fatti Sono proprio i riferimenti culturali Agli anni 80-90 nel Sud Corea Ci sono diversi riferimenti non solo all'interno dei giochi che vengono fatti Ma anche proprio nell'organizzazione dell'ambiente in cui si trovano questi individui Ad interagire con loro stessi e con delle persone che non conoscono Ma anche con un'intera gerarchia di individui che sono lì per controllarli Ma che allo stesso tempo sono soggetti all'interno del gioco E hanno un loro ruolo all'interno di esso e non hanno il controllo sulle loro azioni Ci sono diversi riferimenti culturali non solo alla storia della tradizione culinaria coreana Ci sono diversi elementi che rappresentano quelli che sono stati i cibi più popolari all'interno della cultura coreana tra gli anni 80 e 90 E ci sono anche diversi riferimenti culturali Uno fra tutti la bambola che fa da guardia all'interno del gioco di un due tre stella Che è un personaggio che a chi è vissuto in quegli anni in Corea del Sud è molto familiare Perché era un personaggio presente all'interno dei testi scolastici E così come anche diversi altri elementi culturali che io personalmente a volte non conoscevo E sui quali mi sono informata per capire meglio E che vanno a costituire tutto quello che rappresenta la parte più originale di questa storia Per noi occidentali Più che per chi quegli anni li ha vissuti in Corea E conosce tutti questi riferimenti culturali E si riconosce in essi perché ci è cresciuto insieme E quindi l'ho trovata molto interessante sotto questo punto di vista Soprattutto da outsider e da persona che va a scoprire una cultura che non conosce E che va a approfondire diversi elementi di essa attraverso questa serie tv Bene, questi erano gli elementi che mi sono piaciuti Adesso passiamo a tutto ciò che non ho apprezzato O che perlomeno non mi ha convinto Primo fra tutti, secondo me c'è una carenza di caratterizzazione dei personaggi Mi spiego meglio Questi personaggi sono caratterizzati bene All'interno di quello che è il limite Che possono avere per la caratterizzazione Questi personaggi che sono estremamente stereotipati Sono dei personaggi che aderiscono a dei ruoli già visti E dei ruoli che non sono nuovi Né al genere dei gay drama Né all'interno delle serie tv più propriamente occidentali Sono dei personaggi che secondo me mancano di anima Hanno una caratterizzazione standard Che si limita a quello che è un soggetto Che rimane relegato a quello che ci viene raccontato All'interno della storia Mi spiego Questi personaggi hanno un certo background Che è un background costruito a pennello Per arrivare allo spettatore medio E che è una sorta di costruzione Che secondo me non ha profondità Finisce lì, è molto molto piatta E li ho trovati già visti Li ho trovati poco approfonditi E volti soltanto a catturare l'emotività dello spettatore Piuttosto che ad avere un vero senso All'interno di quella che è la storia Prendiamo un esempio Prendiamo Sebiok Che è forse il personaggio che è stato più apprezzato All'interno della serie E che io personalmente ho apprezzato per certi aspetti Lei è una reduce dalla Corea del Nord Che è riuscita a scappare con suo fratello dal Nord Attraverso un servizio illegale di viaggio E che si presenta come la tipica ragazza forte Che però ha una sorta di patina Che la protegge dal mondo esterno Ecco, non c'è molto altro al suo personaggio Non c'è nient'altro oltre questo Lei è soltanto questo Un personaggio che può essere racchiuso all'interno di quattro aggettivi Che la inglobano E' quasi una scatola all'interno della quale ci sono Quei quattro elementi che la vanno a caratterizzare E nient'altro di più E io da personaggi di questo genere Mi aspetto un mondo Molto molto altro Qui non l'ho trovato E secondo me questa è una grande carenza all'interno di questa serie Che poi è accompagnata anche da una recitazione Che non sempre è eccellente Sebioc è interpretata da un'attrice alle sue prime armi E appunto questa è stata la sua prima esperienza recitativa E secondo me si vede Aveva un numero limitato di espressioni Che riusciva a trasmettere allo spettatore E nient'altro Un elemento che secondo me con l'esperienza si può migliorare Però appunto questo è stato il suo caso Per altri c'erano diverse altre problematiche Proprio a livello recitativo e di espressività Forse uno dei pucchiattori che mi è arrivato davvero E quello che interpretava lì Che interpretava questo immigrato indiano All'interno del contesto coreano Che si ritrova a dover affrontare una cultura che lui non conosce Una lingua che non conosce E un gioco fatto di elementi culturali a lui totalmente stranei E quindi lui mi è arrivato molto Come pochi altri Perché appunto all'interno della serie Ci ho trovato davvero tanta carenza a livello recitativo Non mi sono arrivati tutti come avrebbero dovuto Poi passiamo a quella che è la struttura narrativa stessa della serie Non l'ho trovata originale per niente È un tipo di narrazione già visto Ed è un mix tra Takeshi's Castle Battle Royale Death Parade E diversi altri anime, serie tv E prodotti culturali degli anni 80-90 Asiatici Che me l'hanno fatto risultare molto molto già visto È una serie che ha proprio preso Moltissimi elementi da questi cult Degli anni 80-90 Ma anche dei primi anni 2000 E li ha rimaneggiati per farci una trama che non ha niente di originale È prevedibilissima I risvolti narrativi e i diversi colpi di scena Sono davvero scontati E forse l'unico elemento che io ho trovato originale Tra virgolette E che non ero riuscita a capire in anticipo È stata la rivelazione finale Di chi aveva organizzato tutta questa manfrina Però anche lì C'erano degli elementi Poi riguardando la serie Che puntava nel dito Proprio a quella rivelazione finale Però togliendo questo Andando avanti con gli episodi A parte che la tensione cala tantissimo C'è una tensione che L'abbiamo circa nei primi 40 minuti del primo episodio Sino al primo gioco E poi di lì è tutto a scendere Non c'è davvero una tensione che rimane costante E che tiene lo spettatore incollato allo schermo Secondo me O perlomeno questa è stata la mia impressione Non è riuscita personalmente a tenermi incollata allo schermo Sì, ero curiosa di vedere come andava Però non c'era quell'attaccamento Che io di solito con questo genere di serie tv O di film O di prodotti culturali Era tutto molto piatto E appunto Moltissimi risvolti narrativi Io li avevo già azzeccati Diciamo Una o due episodi prima che avvenessero Quindi Sì Non c'è moltissima originalità Però appunto Alla luce di tutto questo Io capisco Quello che è stata proprio la presa Che questa serie ha avuto A livello internazionale Su un pubblico Che non sempre è abituato A dei prodotti culturali di questo genere Perché appunto Anche tutti i prodotti culturali Di cui parlo io Battle Royale Il film degli anni 90 E poi appunto Takeshi's Castle E Death Parade E tantissimi altri Film e serie tv Di produzione giapponese Barra coreana Barra Medio orientale E asiatica in generale Non sono poi così diffusi A livello internazionale Come dovrebbero E quindi La forza di questa serie È stato proprio Il prendere tutti questi elementi Che avevano avuto Un grandissimo successo In Asia E rimaneggiarli In un modo Che potesse essere D'impatto Per un pubblico Più internazionale E ovviamente Chi come me Ha visto O conosce questi elementi Non è rimasto secondo me Molto impressionato Da tutta questa produzione Per me È una serie tv Molto sopravvalutata Però ne capisco L'appeal Che ha avuto Sul pubblico Medio Su tutti quelli Che fino ad ora Non avevano mai guardato Un dramma coreano E non avevano mai avuto Un approccio Con la cultura asiatica In generale Non avevano mai guardato I film di Kitano Takeshi Non avevano mai guardato Takeshi's Castle Che è sempre di Kitano Takeshi Non avevano mai guardato Anime O manga O Non avevano mai letto Magari Libri Di produzione asiatica E Per me Non è Questa grandissima serie Ce ne sono Di più belle E anzi Vi farò un video Per tutti coloro Che hanno apprezzato Questa serie E magari cercano Dei prodotti culturali Affini ad essa Che Possano Piacergli E Però appunto Arriverà poi In seguito Perché adesso Sono veramente Molto piena E anche questa settimana Usciranno soltanto Due video Perché Ho tantissime cose da fare E quindi Voglio fare tutto Nella maniera più corretta E quindi Per questo ho aspettato Anche a fare questo video Perché volevo Raccogliere bene le idee E parlarvene Nella maniera migliore possibile Giusto per Spiegare Nella maniera più corretta Quelle che sono state Le mie impressioni In definitiva È una serie Che secondo me Può piacere A tutti coloro Che magari Sono alle prime armi Con i gay drama Magari non hanno Grandissima Esperienza Di visione Delle produzioni Coreane Barra giapponesi E che magari Hanno apprezzato Alice in Borderland Che è la serie Giapponese Più vicina A quello che fa Squid Game E che ha avuto Più successo A livello internazionale Nell'ultimo periodo Per tutti gli altri Se siete Appassionati Di gay drama E ne avete guardati Tanti quanto me E quindi Sapete quali sono I meccanismi narrativi Che governano Il mondo di gay drama Sapete qual è La qualità recitativa Che di solito Ci si aspetta Da un che drama Medio Forse rimarrete Delusi Da questa Produzione Oppure potrebbe Piacervi Non so E magari Vi sorprende Come non ha Fatto con me Ma ha fatto con Milioni di altre persone Per me È un nì Guarderei Una seconda stagione Ma Non ho aspettative Per una seconda stagione E secondo me Una seconda stagione Sarebbe sprecata Andrebbe soltanto A rovinare Quello che di buono C'era In questa prima Stagione di Squid Game Perché non c'è Molto altro Che si può aggiungere Ad una trama Che Già In questi nove episodi Risultava Troppo Estesa Troppo Tirata E quindi Speriamo Che Lasciano Perdere E La Lasciano Così E speriamo In Che i drama Di qualità Che riescano Ad arrivare Ad un grande pubblico Proprio come ha fatto Squid Game Bene Questo è tutto Con il video di oggi Spero come sempre Che vi sia piaciuto E vi sia stato utile Fatemi sapere Se l'avete guardato O se non l'avete guardato Perché non l'avete ancora fatto E se ne avete intenzione Ma se l'avete visto Fatemi sapere Quali sono le vostre impressioni Riguardo Squid Game Se vi è piaciuto Se non vi è piaciuto Se Condividete con me Qualcuno dei punti Che vi ho Esposto In questo video O se siete completamente Contrari A quanto detto finora E io sono aperta A discussioni pacifiche Nei commenti Quanto volete E Sono qui Per Parlare con voi Anche di che i drama Quindi insomma Se volete parlare con me Di questa serie Vi aspetto nei commenti Sono prontissima Bene Questo è tutto Con il video di oggi E noi ci vediamo Alla prossima Ciao ciao